Scusate, trovo inutile che noi si faccia giravolti di linguaggio per non ferire eccessivamente il nostro senso di patria e orgoglio civico. Guardiamoci bene in faccia, prendiamo un profondo sospiro e diciamocelo schiettamente. Noi siamo un popolo di ladri! Fermi, fermi, ho sbagliato la formula. Secondo le statistiche il numero di furti da noi in negozi, ma anche nelle cassette per le mosine delle chiese è un livello del tutto accettabile, anzi siamo a una media che ci classifica come popolo di furfanti moderati. Ma è nella rapina contro i beni pubblici che siamo a livelli inimmaginabili. L'evasione fiscale per esempio è di 180 miliardi di euro l'anno, miliardi all'anno. Ma attenti, chi concorre con maggior slancio a questa cifra? Quasi esclusivamente il 10% della popolazione, industriale, grandi manager, banchieri, eccetera. Insomma, i grandi ambienti, il restante 90% è incredibile, paga le tasse, lavora e paga le tasse! Ma ecco poi la giunta degli scandali. A Venezia, città degli innamorati, qualche mese fa è scoppiato lo scandalo Mose. Cos'è successo? Tanto per cominciare ci sono stati 35 arresti, fra cui il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, e la richiesta d'arresto per l'ex governatore Giancarlo Galan. Un miliardo di euro è stato bruciato in tangenti e consulenze e la finanza ha sequestrato beni per circa 40 milioni di euro. Il CIP di Venezia, Alberto Scaramuzza, ha dichiarato che gli indagati avrebbero asservito totalmente l'ufficio pubblico, che avrebbero dovuto tutelare, agli interessi del gruppo economico criminale, lucrando una serie impressionanti di benefici personali di svariato genere. E il procuratore aggiunto di Venezia, Nordio, ha detto che il giro di mazzette è stato più complesso e sofisticato di Tangentopoli. Che grande popolo che siamo! Riusciamo sempre a superare noi stessi! Ma spostiamoci a Milano, dove un altro grande scandalo, quello dell'Expo, è stato definito dal Financial Time, una cosa così, analogo a quello che aveva abbattuto il potere politico italiano nei primi anni 90. Come a Venezia anche in questo caso si sono trovati coinvolti nella inchiesta, i politici sia di destra che di sinistra, anche nella corruzione si sa va rispettata la par condicio. Si è parlato addirittura di una cupola criminale che si spartiva bellamente gli appalti per la costruzione degli impianti per l'esposizione universale del 2015. E volete sapere a quanti anni di carcere sono stati condannati i protagonisti di questa immensa ruberia di Stato? Ebbene, la pena massima è stata di tre anni e quattro mesi, cioè a dire che sono stati poi liberati immediatamente. Non parliamo poi delle infiltrazioni manfiose presenti da anni e ormai in Lombardia e in tutto il nord Italia. Pensate che nel novembre scorso la direzione distrettuale antimafia di Milano ha arrestato nel corso di una sola operazione ben 40 persone coinvolte negli affari della criminalità organizzata. Ma per il gran finale eccoci a Roma, dove circa due mesi fa è esploso lo scandalo detto di mafia capitale. Salve voi romani! È Giulio Cesare che parla. La polizia con l'operazione Mondo di Mezzo ha arrestato 37 persone, ripeto, 37 persone per associazione di tipo mafioso estorsione, usura, corruzione, turbativa d'asta, falsa fatturazione, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio di denaro e altri dati. Oddio, che città! Stracolma di fantasia è Roma! Insomma ci troviamo di fronte a una vera e propria orgia di scandali e ruberie con assessori, consiglieri, faccendieri, sindaci e funzionari in genere che fanno a gara per aggiudicarsi la palma di ladro migliore d'Italia dove la concorrenza si sa è spietata. Ma scusate, 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 fermiamoci un attimo. Non trovate che questa sia una coincidenza a dir poco curiosa. Esplode uno scandalo di tangente corruzione che sembra far vacillare il potenti di tutta la cassa al completo e immediatamente ecco che sempre in Italia in un'altra città ne scoppia un'altra dello stesso livello se non ancora più stufefacente. Sembra quasi fatto apposta perché la gente si scordi dei vari scandali. Troppi ce ne sono grazie all'esplosione immediata di altri scandali sempre più gravi e spudorati che all'istante attraggono l'attenzione del pubblico di modo che tutto si perda in un grido generale di «Alladro! Alladro!» che ormai non è più rivolto contro qualcuno in particolare. È diventato generico cosicché alla fine in galera non ci vada nessuno. È la stessa tecnica che usano i borsaioli sugli autobus e sui tram. Non me ne siete accorti? Qual è questa tecnica semplice? Un ladro ruba un portafoglio. Il derubato se ne accorge e all'istante si mette a gridare «Il portafoglio! Qualcuno mi ha rubato il portafoglio!» Tutti si guardano intorno per cercare di individuare il malfattore. Ma ecco che una signora urla improvvisamente «T'aiuto!» «La mia borsetta! Mi hanno portato via la borsetta!» E un altro «La mia valigetta!» «Era piena di mazzette!» No, no, questo non dovevo dirlo. Si aprono le portiere e tutti si mettono a gridare «Eccolo là! È scappato! No, è quell'altro! Il mio è questo!» «Adrestatelo! Chiamate la polizia! Ladri!» E così tutto viene distrutto dalla messa in scena, dalla rappresentazione, come dire, dal teatro. Le situazioni si susseguono con un ritmo tale che non si riesce a stare dietro. Ogni truffalderia viene assorbita, dimenticata e dietro a queste vere e proprie operazioni pubblicitarie, non dimentichiamocelo, c'è sempre il governo che con maneggi varie manovre sotto banco riesce a far passare sotto silenzio le situazioni che rischierebbero di metterlo in imbarazzo. Salta fuori nel testo di una legge una postilla, infilata all'ultimo momento che stranamente sembra fatta apposta per risolvere i problemi di un certo condannato alla galera per frode fiscale che così potrebbe tornare di nuovo in politica. Ed ecco che all'immediata il Presidente del Consiglio grida «fermi tutti, niente paura, è tutto regolare, ce l'ho messa io, è mia la manina!» «Ah beh, allora è tutta un'altra cosa, abbiamo un Presidente manina, evviva la manina!» Manina d'Italia, d'Italia, se vesta l'Italia, se cinta la testa, dov'è la vittoria, dov'è la manina? È quella di Silvio che Dio lo creò! Manina, 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 ma quante manine! Grazie a tutti!